Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui tornati nella prediction della serie A del 2023-2024 L'anno scorso, anche due anni fa se non sbaglio, ho fatto, sì sì, già da due anni, sì sì, ormai sì Questa è la terza volta che faccio la prediction della serie A E quest'anno ho fatto per bene i miei ragionamenti Mi sono messo lì qualche sera fa a fare questa classifica che fra poco vedrete Ma prima iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un bel mi piace E guardate il video per bene, ascoltate bene, che vi spiegherò perché ho messo certe squadre in certi punti della classifica E nei commenti fatemi sapere anche la vostra classifica, fatemi sapere chi vincerà il campionato secondo voi Ora partiamo subito In zona retrocessione, quindi tre squadre che torneranno, cioè che andranno a farsi poi la serie B Sono, secondo me, l'Empoli, il Verona e l'Udinese Io vedo queste tre squadre sotto le altre Per esempio l'Empoli non è partito bene L'Empoli in realtà è una bella squadra ma non è partito bene E squadre così piccole se partono subito male, secondo me è difficile poi che recuperino E soprattutto hanno venduto pezzi importanti, quindi secondo me l'Empoli scenderà di nuovo in B Il Verona, regà, allora non sta facendo malissimo, ha già fatto tipo sei punti se non sbaglio Però regà, sinceramente non è una squadra che mi piace, mi sono guardato bene la squadra In realtà alcuni giocatori, anzi forse uno o due, li ho anche al Fanta tra l'altro Però regà, boh, non mi piace a me il Verona come squadra Hanno venduto molti giocatori, tipo cos'era, nel 2021, due anni fa Avevano una bella squadra, che erano arrivati ottavi in campionato Che avevano Caprari, Simeone Avevano una bella squadra, però hanno venduto tutti e non hanno comprato nessuno Quindi il Verona, secondo me, scenderà E anche l'Udinese, perché l'Udinese non mi piace come squadra Hanno venduto anche loro dei pezzi importanti tipo Beto C'è ancora il Solitude Ulufeo, che sicuramente farà bene L'anno scorso mi ricordo che erano in zona Champions Per il primo mese, per i due se non sbaglio Per le prime giornate erano in zona Champions Quindi comunque facevano un bel po' di punti Però, boh, anche l'Udinese non mi piace Io vedo il Frosinone messo meglio Hanno fatto degli acquisti molto interessanti Hanno preso Caio George, Caio Org come cacchio si chiama Sule della Juve, Ocoli dell'Atalanta Hanno preso anche altri giocatori tipo Come si chiama quella? Ibrahimovic del Bayern Monaco Sì, ragazzi, uno che si chiama Ibrahimovic Non so se è tipo il figlio, non credo, è tedesco, quindi non credo Però hanno preso altri giocatori interessanti Vediamo se si sapranno esprimere Il Frosinone, secondo me, si salverà Queste sono le tre squadre che, secondo me, scenderanno in Serie B A lottare per la Conference League, quindi per il settimo posto Saranno loro tre La Fiorentina, il Monza e la Roma Vi spiego perché Quindi la classifica quest'anno, a differenza degli altri anni Dove facevo tutte le posizioni della classifica Quest'anno ho voluto cambiare Dopo vedrete la classifica intera Ho messo tre zone di retrocessione E poi i primi sette posti Che sono quelli che alla fine ci interessano a tutti Perché alla fine stai a metà classifica Bene, però, niente di che Secondo me, a lottare per la Conference Saranno loro tre La Roma, la Fiorentina e il Monza Perché? Il Monza ha una bella squadra Ha una bella squadra La Fiorentina anche Però la Fiorentina Partiamo dalla Fiorentina La Fiorentina, secondo me Siccome per la squalifica della Juventus La Fiorentina si rigiocherà la Conference Ha passato il turno preliminare In teoria Quindi, sì, sì, l'ha passato Quindi andrà a giocarsi la Conference Non sono successo Sono tutte squadre molto abbordabili Bisognerà poi vedere Se non sbaglio dall'Europa Si scende in Conference, no? In teoria sì Quindi poi bisognerà capire Però Regà, la Fiorentina Come l'anno scorso è arrivata in finale Tranquillamente può farlo anche stavolta Ma come avete visto Arrivare in finale in Conference Vuol dire perdere un po' di punti In campionato Ecco perché la Fiorentina Secondo me Proverà a lottare Per il posto in Conference Io fossi la Fiorentina Proverei a lottare per tutte e due Se poi vedo Che in campionato non riesco Punterei tutto sulla Conference Perché Regà Sul campionato è difficile La Conference è già più fattibile Il Monza ha una bella squadra Ha un'ottima squadra Idem per la Roma Cioè, regà Il Monza comunque si è potenziato molto Ha un'ottima squadra E Perché comunque ha preso giocatori Di Di esperienza Come Gagliardini D'Ambrosio Hanno preso Lorenzo Colombo Là davanti Che secondo me farà molto bene Ha fatto bene l'anno scorso a Lecce Quindi secondo me Faranno Faranno bene Poi c'è Colpani Che sta giocando benissimo Mamma mia Poi hanno fatto anche altre quiz Quindi comunque È una buona squadra Secondo me può lottare L'anno scorso sono arrivati ottavi Non vedo perché quest'anno Non possano arrivare settimi Può tranquillamente lottare Il Monza Per Un posto in Conference Anzi Secondo me lotterà E sarà anche favorita Rispetto magari alla Fiorentina Perché la Fiorentina Gioca la Conference Il Monza no Quindi Ha meno energie da spendere Quindi Risparmia energie La Roma Idem La Roma L'anno scorso Io l'ho messa a quarta Secondo me pure Cioè nel senso Nella classifica Non l'ho messa a quarta Ma secondo me pure La Roma È da quarto posto Guardate che squadra Hanno una difesa molto bella Con Smalling Mancini Indica Che poi può giocare Gio Oriente Indica Hanno comprato Paredes Aguari Renato Sanchez A centrocampo Che secondo me Sono ottimi giocatori Se non si facessero Sempre male La davanti rega Lukaku Cioè Il colpo Champions Però il colpo Champions Lo dicevamo anche l'anno scorso Con Dybala Io simpatizzo la Roma Quindi non potete Dire Che l'ho messa qua Perché mi sta sulle palle Io la simpatizzo anche Mi piacerebbe Che vada in Champions Però rega Secondo me Ha l'Europa League La Roma Secondo me rega La Roma Spenderà Tante Anzi troppe energie Nell'Europa Che è una cosa buona Se la vincono Però devono vincerla Non come l'anno scorso Mi dispiace Però È andata così E secondo me La Roma Arriverà Settima Barra Sesta Però Può vincere tranquillamente L'Europa League Secondo me È così Quindi io Firmerei Fossi la Roma Adesso Per arrivare Settimi Però Vincerla L'Europa League Sinceramente Ci può stare Anche se Preferirei Arrivare magari Un po' più in avanti Però Vabbè I primi Anzi I primi Sì col cavolo I due posti In Europa League Sono occupati Dalla Lazio E dalla Juventus Quindi la Lazio Al sesto posto E la Juventus Al quinto Questa è la mia scelta Che ho fatto Quindi Lazio E Juve Fuori dalla Champions League Allora La Juventus Non si è rinforzata Anzi Non ha fatto acquisti Praticamente Se non sbaglio Ha preso solo Timothy Weah Che è un ottimo giocatore L'ho visto giocare Molto forte Però Solo lui Mi sarei aspettato Qualcos'altro Però Vabbè In più Pogba Si è fatto anche male Già adesso Ho letto Si è già fatto male Sì C'è Dusan e Chiesa Io li adoro Dusan e Chiesa Però Raga Non so se La Juve Arriverà in Champions Solo con Dusan E Federico Chiesa Perché la squadra Non la vedo Al top Del top Del top Però Boh Vedremo 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 Secondo me La io vedo Un ottavo posto Che per realtà Sarebbe stato terzo Quarto Boh Non mi ricordo Comunque non benissimo Anzi Quest'anno farà meglio Però La metto qui In La Lazio La Lazio invece Ha fatto un ottimo mercato Perché Ha fatto un ottimo mercato Perché Ha comprato Kamada Che ha già fatto gol Guindosì Guindosì pure Guindosì Ha fatto tipo Assist E poi il gol È stato annullato E anche Ha fatto anche gol Perché è stato annullato All'andata All'esordio Quindi Tanta roba Hanno preso anche Rovella Ottimo giocatore Secondo me Molto forte Poi hanno preso Quel giovane lì Isaacsen Però Non l'ho mai visto Hanno preso anche Un vice immobile Un attaccante vero Che ha fatto molto bene In 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 Spagna Ora non mi ricordo il nome L'ho preso anche al Fanta Castellano Se tipo si chiama Hanno una bella squadra La difesa è rimasta invariata Praticamente Poi Luisa Alberto Sempre forte Tra l'altro Ora non hanno più Milinkovic e Savice Ma appunto per questo Secondo me Un po' perderanno Anche se Recupereranno Con Luisa Alberto Che secondo me Senza Milinkovic Si esprimerà al meglio Però Anche qui Secondo me La Lazio È inferiore Alle squadre Che ci sono sopra Secondo me Tra la Lazio E la Juve Arriveranno lì Quindi un sesto a quinta A vicenda Cioè si vedrà E invece Le prime quattro Secondo me Sono superiori Quest'anno E ve le faccio vedere Adesso Perché al quarto E al terzo posto Troviamo l'Atalanta E il Napoli Quarto posto per l'Atalanta E terzo posto per il Napoli Campione D'Italia Allora Qui bisogna Fermarci Soffermarci un attimo Perché Io credo Che l'Atalanta Quest'anno Abbia fatto Degli ottimi acquisti È da un po' È da Quanti anni Tre Almeno Uno Due sicuro Anche tre Se non sbaglio È da almeno Sì da tre anni O anche di più Che l'Atalanta Non va in Champions E hanno fatto Degli ottimi acquisti Perché Hanno speso molto Hanno comprato Scamacca Che secondo me L'Atalanta Farà molto Molto bene Ha già fatto dei gol De Kettler Che anche lui L'hanno preso in presito Se non sbaglio Ma De Kettler È fortissimo Perché prima di andare Al Milan Tutto il mondo Lo voleva Non è possibile Che è un bidone Al Milan Ci è trovato bene Mi dispiace Perché Mi sarebbe piaciuto Vederlo Esprimersi bene Neanche al Milan Però Vabbè Sono contento Che si trova bene Almeno Sembra che si trovi bene All'Atalanta Gasperini Lo apprezza molto Poi hanno preso Anche altri giocatori Kola Zinac Che è molto Esperto Comunque Ex Arsenal Ha giocato anche L'Europa La Champions Sicuro le ha giocate E hanno preso anche In attacco Hanno preso anche Come si chiama Bill No Non lo Ture comunque L'attaccante Quello giovane Che hanno pagato un botto 33 milioni Tipo Si è già rotto Purtroppo Vabbè Però Hanno un'ottima squadra Giocano bene E mi piace Mi piace E quindi Secondo me Regà L'Atalanta Quest'anno Tornerà In Champions O comunque Lotterà Con la Juve La Lazio Per il quarto posto Questo è quello che penso Il Napoli Anche Campione d'Italia Sì Non stanno Giocando male Comunque Nonostante L'allenatore Cambiato Ma appunto Per questo Spalletti Che ha fatto Tanto È andato via Ha fatto bene Ha fatto un'ottima scelta Perché Te ne vai via Da campione Quindi ci sta Ma Sono un po' Deloso Da Dal calciomercato Del Napoli Perché Campione d'Italia E non vai A coprirti I punti deboli E non è che Se vinci Non hai punti deboli Regà Hanno preso Nathan Però Cioè Nel senso Hanno venduto Kim a 60 milioni Cioè Non dico che A 60 milioni Kim lo vendi Cioè Regà Lo vendi Ce ne stanno Altri difensori Buoni Però Nathan Magari farà bene Diventerà Meglio di Kim Magari Fra due anni Se ne andrà via 70-80 milioni Questo non lo so Però Regà Non hai esperienza Cioè Nel senso Sì Neanche Kavaraschella Aveva esperienza Per questo Però Non lo so Avrei preso Qualc'altro Giocatore Magari Stessa cosa Per l'attacco Regà Il centrocampo È rimasto uguale Cioè Doveva venire Gabri Vega E quello lì Si è andato In Arabia Hanno preso Lindstrom Che è forte È molto forte In Bundesliga Ha giocato bene Ha già fatto Delle dichiarazioni Che non vede l'ora Di giocare Però Secondo me Napoli Non sarà Campione Di nuovo Ma arriverà Terzo Comunque lotterà Per il campionato Sicuro Però Terzo Secondo me Alla fine Arriverà Solamente Al terzo posto Quindi Quindi Al primo E al secondo Posto Cioè Il contrario Al secondo E al primo Posto Troviamo Loro Il Milan Al secondo posto E l'Inter Campione D'Italia Il Milan Ha fatto Secondo me Io Che tifo Ha fatto Un calciomercato Molto Molto buono Ha venduto Tonali Sì Ma Grazie All'accessione Di Tonali Che secondo me In futuro Tornerà al Milan Hanno comprato Però Un sacco Di giocatori Rainders Love to Chick Pulisic Ciukwese Okafor Oh Non me ne vengono in mente Ma hanno preso Un sacco Di giocatori Regà E Mi fanno Anche impazzire Ciukwese Okafor Secondo me Faranno molto bene Pulisic Pure È un giocatore Che si vede Che ha molta esperienza Love to Chick Anche Anche Rainders Mi piace un casino Regà Hanno una bella squadra Punto Il Milan È più forte Del Milan Dell'anno scorso Leao E Teo Sono diventati Giocatori Assoluti Ormai Ma già prima Lo erano Però adesso Proprio totali Cioè Benassere Che è infortunato Ancora Quindi c'è Cruni C'è centrocampo Poi bisogna vedere Anche Pioli Come vuole giocare Però regà È un'ottima squadra Io l'ho messo A secondo Ho messo Il Milan A secondo Per scaravanzia No Non è vero Io penso che A parte gli scherzi Il Milan E l'Inter Lotteranno Fino alla fine Per il titolo Come è successo Due anni fa L'Inter Invece Secondo me Si è potenziata Veramente Veramente Molto E anche tanto bene Perché Va via Onana Secondo me È un portiere Molto forte Onana Chi viene Viene Sommer Un portiere di esperienza Mondiale Internazionale Vabbè Internazionale Cioè Comunque sì E Cavolo Sommer è forte Regà Viene Pavard Pavard Ragazzi Ha vinto tutto Col Bayern Monaco Ha vinto tutto Champions League Ha un'esperienza Molto molto importante E tra l'altro Adesso avrà la titolarità Quindi giocherà molto E quindi Per me Si esprimerà molto bene C'è Bastoni Che migliora sempre C'è Acerbi Ancora Ecco Acerbi Magari avrebbe preso Un altro difensore Però Vabbè Hanno preso Quadrado Comunque Non te le gioca tutte Ma è un ottimo giocatore Hanno preso anche Klassen Che all'ultimo Secondo di mercato Praticamente l'han preso Frattesi Sono curioso di vederlo E in attacco Regà Turam E Arnautovic Turam Ha già fatto gol E assist Io ce l'ho anche al Fanta Quindi grazie a Turam Arnautovic pure Ce l'ho al Fanta Quindi Arnaut Se vuoi fare un po' di gol Mi fa un favore Ricordiamo che Finalista di Champions Si è potenziata La domanda è questa Si è potenziata l'Inter Rispetto all'anno scorso? Secondo me sì Per questo Lotterà Per lo scudetto E secondo me Lo vincerà anche Tra l'altro Tra qualche giorno C'è il derby E sono tutte e due Siamo in l'inter Sono a pari punti Quindi Questi tre punti Saranno importanti Magari un pareggio Chi lo sa Un pareggio ci starebbe Cioè spero che non venga l'Inter E basta Questo Quindi Questa è la classifica In zona conference Una di queste tre Europa Lazio Juventus Champions League Atalanta Napoli Milan E campioni d'Italia L'Inter Questa è la mia prediction Per questo campionato Fatemi sapere la vostra Questa è qui sotto nei commenti Iscrivetevi al canale Ti vedete la campanellina Quest'anno ci saranno altri video Sul calcio anche Non solo su FIFA Ma anche in generale Sulla Serie A Sul calcio In generale Quindi Antifed la campanella Fatemi sapere Secondo voi Che squadra Vincerà Il titolo Fatemi anche la vostra classifica Se volete Bella sta classifica Mi piace Mi piace Sì Mi piace Sono contento Di questa prediction Tra l'altro Se azzecco Cioè perché Se l'Inter vince Ho azzeccato il pronostico Quindi ok Se perde E vince il Milan Sono felice Quindi in tutti e due casi Vinco Quindi tanta roba Iscrivetevi Ci vediamo Con un prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti